La Cisle Irpina-Sagno incontra gli iscritti di Ariano Irpino per informare sulle novità che attengono alle pensioni dopo l'accordo sottoscritto tra il Governo e il Sindacato, ma anche per illustrare le novità sulle assunzioni giovanili e le vertenze in atto in Valle Ufita. Diversi gli iscritti che hanno risposto all'invito di Nicolino Iacobacci a spiegarne i contenuti. Il segretario generale interprovinciale Mario Melchionna che ha annunciato a fine discorso di intitolare la sede di Ariano al compianto tesserato Natalino Iacobacci. Tantissimi cittadini che sono interessati a capire quali sono le novità non solo rispetto all'accordo nazionale che abbiamo sottoscritto come sindacato con il Governo per la riforma delle pensioni dove sono state introdotte delle novità importantissime come l'anticipazione dell'età per andare in pensione, la cancellazione della penalizzazione, la salvaguardia per le donne, per i lavori usuranti, tutta una serie di agevolazioni che entreranno a regime dal prossimo anno. Poi anche le novità sulla Jobs Act, le agevolazioni fiscali per le aziende che assumono i giovani, la riforma del fisco. Anche qui ogni anno siamo costretti purtroppo a rincorrere alle norme che il Ministero e i vari governi ogni anno modificano e quindi i cittadini non riescono a trovare una soluzione rispetto a quelli che sono i tanti cavilli burocratici per mantenersi in regola con la situazione fiscale. Quindi una serie di informazioni che abbracciano tutti i cambi, le vertenze in atto, parliamo dell'industria italiana autobus, l'exirbus che a breve riaprirà i cancelli, alcuni lavoratori sono stati già richiamati, tutte le vertenze aperte sul territorio che riguarda le politiche sociali, le industrie, il manifatturiero, il pubblico in via, la sanità, perché no, con l'ospedale di Sant'Angelo, ancora una volta chi rischia di avere penalizzazione da una politica sbagliata regionale e nazionale. Quindi abbiamo messo in campo una serie di cose che sono utili ai cittadini, abbiamo avviato una sfida sul territorio che deve riportare la Valle dei Lufi ad essere l'area più importante non solo della provincia di Avellino ma l'intera campagna.